Arresti domiciliari per il direttore generale del lato Toscana del Sud, l'autorità per il servizio di gestione integrato dei rifiuti per i comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto e interdizione dai pubblici uffici per i tre professionisti toscani. Queste le misure cautelari eseguite dalla GDF di Firenze per un'inchiesta della procura del capologo toscano per turbativa d'asta e corruzione dal titolo Clean City. Immediata la reazione del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, presidente del lato Toscana del Sud, che ha chiesto e ottenuto un incontro urgente con l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni in seguito ovviamente ai fatti. L'incontro a Firenze ha avuto l'obiettivo condiviso di definire la situazione amministrativa e gestionale del lato stesso nella massima trasparenza, con un occhio di riguardo ai cittadini e al delicatissimo tema della raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, al quale deve essere data necessariamente continuità. Ghinelli ha quindi convocato per venerdì 11 novembre un'assemblea urgente per prendere le determinazioni del caso circa le funzioni di indirizzo e controllo dell'ente che presiede. Nel frattempo arriva anche una nota di Sei Toscana, il gestore unico che si è giudicato la gara d'appalto su cui si stanno concentrando le indagini della magistratura. La nota è firmata anche da Siena Ambiente che ha una partecipazione societaria proprio in Sei Toscana. Siamo convinti, leggiamo nella nota, della legittimità delle nostre azioni e che al termine del leader giudiziario sarà accertata la regolarità dell'operato messo in atto dalle due aziende.